Tutto è partito da inchieste giornalistiche su presunti fondi neri ad Alternativa per la Germania per finanziare la campagna elettorale del 2017. Ora la leader Alice Weid è ufficialmente sotto indagine. La sezione del Lago di Costanza del partito di estrema destra avrebbe ricevuto una cifra pari a 130.000 euro da una società farmaceutica svizzera che avrebbe trasferito la somma proveniente da un soggetto anonimo. La legge tedesca sul finanziamento ai partiti vieta donazioni da paesi non membri dell'Unione Europea a beneficio di cittadini tedeschi che vivono fuori dai confini comunitari. Weid si divide infatti fra Germania e Svizzera dove risiede la sua famiglia. Lei si difende sostenendo di aver ricevuto i bonifici in 18 tranche a settembre ma di averli restituiti ad aprile. Troppo tardi per i magistrati della procura di Costanza che hanno chiesto al Bundestag di togliere alla parlamentare l'immunità. Weide è anche indagata per un altro versamento a febbraio di 150.000 euro dalla Fondazione Identità Europa olandese inizialmente identificata erroneamente come belga. La legge prevede che largizioni superiori ai 50.000 euro siano denunciate. Il partito afferma di aver restituito la donazione tre mesi dopo.